dunque fatemi capire giusto aiutatemi voi due siete sposati da tre anni giusto ed entrambi siete fertili assolutamente dottore da quel punto di vista abbiamo fatto un'analisi e tutto ma non riuscite ad avere figli perfetto mi potreste gentilmente spiegare com'è una tipica giornata a casa che le devo dire dottore io la mattina mi sveglio da un bacetto a mia moglie poi mi preparo il pomeriggio il pomeriggio io torno da lavoro e mi faccio una doccia da un bacetto a mia moglie e poi leggo un libro mi faccio le parole crociate si fa solo le parole crociate e la sera la sera noi praticamente ceniamo insieme poi ci mettiamo sul divano e ci guardiamo un bel film poi appena proprio mi cala il sonno io do un bacetto a mia moglie e così poi si ricomincia non aggiunga signora per cortesia venga un attimo con me dov'è andato che c'è e allora scusi ha capito come funziona allora dottore adesso è tutto chiaro ho solo una domanda ma lei fa anche visita a domicilio nel senso per questa cosa torniamo noi da lei o lei viene tornate voi da me anzi no va bene se come va dottore ma di che sono contento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti